Sono 273 nuovi casi di Covid in Abruzzo, 9.676 test tra antigenici e molecolari per un tasso di positività complessivo del 2,8%, il più piccolo tra i contagiati a due mesi, il più anziano a 95 anni. La provincia più colpita è quella di Chieti, con 96 nuovi casi, seguono il Teramano con 54 casi, l'Aquilano con 51 casi e il Pescarese con 39 casi. Per 30 persone però sono ancora in corso le verifiche per accertarne la provenienza. Oggi si registrano 12 morti, che portano il bilancio delle vittime a 1813. Cinque dei decessi sono avvenuti nei giorni scorsi, ma comunicati solo oggi dalle ASL. 379 sono i guariti, cresce ancora il numero delle ospedalizzazioni, 22 persone in più rispetto a ieri sono ricoverate in area medica, per un totale di 665 pazienti. 84 persone, stesso numero di ieri ma con tre nuovi ingressi, sono invece in terapia intensiva. Attualmente in Abruzzo sono 13.444 i positivi accertati, 121 in meno rispetto a ieri.